Noi da anni che diciamo che l'Europa non ha assolutamente difeso gli interessi, l'abbiamo visto nel caso dei commercianti ma anche nel caso dei tassisti, queste liberalizzazioni non tengono assolutamente conto del fatto che ci sono persone che hanno investito nella propria attività, che hanno acquistato delle licenze e che non si possono trovare da un giorno all'altro e non avere più nulla. Mi sembra che sia una scelta veramente incredibile, mi spiace nonostante che capisco anche la posizione di boccia, però sinceramente mi sembra quasi il solito teatrino della politica, sono loro in maggioranza che devono decidere, non si può dare sicuramente la scusa a un emendamento caduto e presentato da chissà chi.